Un doppio giro di affari, un doppio filone di guadagno, entrambi illeciti. Da una parte lo sfruttamento della prostituzione, dall'altro quello delle rapine ai danni di clienti e avventori che, temendo di svelare le loro abitudini sessuali, non denunciavano l'accaduto o riportavano versioni parziali. E' quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Foggia al termine di una indagine che ha portato al fermo di cinque uomini, tutti di nazionalità albanese e rumena, dediti allo sfruttamento della prostituzione, ai furti e alle rapine in danno di clienti delle prostitute. Le indagini partite da una ventina di furti e rapine compiuti nei confronti di automobilisti sulla tangenziale di Foggia hanno portato alla luce l'esistenza di una vera e propria organizzazione che gestiva le donne sul tratto di strada tra la rotonda di Via Napoli e quella di Via Lucera, alla periferia del capoluogo Dauno. Al vertice dell'organizzazione un soggetto di nazionalità albanese, Eraldo Yaholli, di 27 anni, che stabiliva le piazzole di sosta della statale 673, dove le donne, tutte di nazionalità rumena, dovevano esercitare la loro attività. Gli altri componenti dell'organizzazione, tutti fermati, sono di nazionalità rumena, di età compresa fra i 23 e i 34 anni. Le donne venivano accompagnate sui luoghi di lavoro, rifornite di profilattice e della legna utilizzata per alimentare i fuochi. Le indagini hanno consentito di accertare che la principale fonte di guadagno per l'organizzazione non erano le prestazioni sessuali a pagamento, bensì il ricavato dei furti compiuti dalle ragazze, su istigazione dei loro sfruttatori, nei confronti dei clienti ai quali, durante i rapporti sessuali, veniva sottratto il portafogli contenente denaro e carte di credito.